chi ha preso i dolci dal vaso di zucca le ha prese lo zombie dal vaso di zucca chi? io? sì! tu! non io! allora chi? la strega! chi ha preso i dolci dal vaso di zucca le ha prese la strega dal vaso di zucca chi? io? sì! tu! non io! allora chi? il vampiro! chi ha preso i dolci dal vaso di zucca le ha prese il vampiro dal vaso di zucca chi? io? sì! tu! non io! allora chi? il mostro! chi ha preso i dolci dal vaso di zucca le ha prese il mostro dal vaso di zucca chi? io? sì! tu! non io! allora chi? il fantasma! felice halloween! felice halloween! felice halloween! che paura!